Continuano i flussi di persone, mamme, con bimbi, adolescenti dall'Ucraina. A Pesaro vediamo già centinaia e centinaia di ucraini che sono arrivati nelle ultime settimane e quindi noi con l'urgenza di aiutare abbiamo creato questo nuovo progetto che si chiama Lingua Interpares per dare sostegno a queste persone a integrarsi nella nostra società partendo soprattutto dalla lingua che è fondamentale per un'integrazione totale, quindi un'integrazione lavorativa, culturale e sociale. Il progetto è già stato creato, è già in piedi e partirà da questo martedì. È un progetto attualmente, abbiamo 120 iscritti sia online che in presenza. Senza sapere la lingua e senza conoscere la cultura del posto dove vieni è impossibile l'integrazione. Appunto per questo stiamo cercando di aiutare i rifugiati dall'Ucraina per superare questa barriera. C'è stata una grandissima volontà dai miei colleghi insegnanti d'italiano che saranno volontari, si sono già iscritti e hanno preso in carico diversi gruppi che abbiamo già suddiviso in base al territorio, in base alla disponibilità oraria e quant'altro. Si svolgeranno all'interno dell'oratorio Santa Maria di Loreto, qui a Pesaro. L'idea è quella di attivare i volontari singoli, quindi quel volontariato spontaneo, quei cittadini virtuosi che fanno la città accogliente. Non sono state messe in campo associazioni di volontariato, ma il desiderio è quello proprio di avere volontari spontanei, quindi tutti i cittadini che possano poi intervenire attraverso il sostegno a coprire dei turni di corso o poi a costruire relazioni virtuose di accoglienza verso i profughi.